Shane, Temu e Aliexpress, addio per sempre. Ci siamo ragazzi e di poche ore fa la notizia che l'Unione Europea, la Commissione dell'Unione Europea, quella che si prodica nel creare leggi per tutti noi cittadini europei, è pronta a stringere la morsa attorno ai giganti, ai big del commercio online cinese. Per l'appunto, Aliexpress, Temu e Shane. Ditemi la verità ragazzi, chi tra voi, e ci metto pure me in mezzo, non ha mai acquistato qualche prodottino più o meno utile da questi store, risparmiando un po' di soldini? Tra non molto però tutto ciò non sarà più possibile. Ma in che modo l'Unione Europea intende soffocare gli store cinesi più grandi? Beh, con l'unica arma che ha davvero in mano. Ovvero introducendo nuovi dazi e tasse doganali. Questa volta per tutti i prodotti che questi store ci spediscono. Quindi, non solo per prodotti sopra le 150 euro, come è stato fino ad oggi, ma al lato pratico, qualsiasi prodotto voi acquistiate da uno di questi store cinesi, anche il più economico, anche quello venduto a un euro, avrà ulteriori tasse, rendendo l'acquisto non più conveniente. E chi ci rimette un po'? Ovviamente noi. E tutto ciò per quale motivo, ragazzi? Attenzione, queste sono parole della Commissione Europea. Vi lascio l'articolo completo qui sotto in descrizione di video. Parole loro per agevolare il commercio dai negozi, sia fisici, sia online, ma europei. Ma anche per ridurre l'inquinamento dovuto a tutti questi aerei cargo che ci spediscono i prodotti a casa, direttamente dalla Cina. Pensate che i soli Shane e Temo insieme arrivano a spedire giornalmente, per via aerea, quasi 10.000 tonnellate di prodotti nelle nostre case. Quando dovrebbero entrare in vigore queste nuove tariffe che di fatto rischiano di affossare gravemente il commercio online da store cinesi, beh, si parla di già, di fine 2024. Ovviamente vi terrò aggiornati con nuovi video e informazioni che vi darò sia qui su YouTube ma anche nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals che trovate linkato qui sotto in descrizione dei video e in cui vi invito ad entrare subito perché troverete anche migliaia di offerte che giornalmente cerco per voi e pubblico. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di tutto ciò? Pensate che l'Unione Europea abbia ragione e merito? Oppure a rimetterci siamo sempre noi acquirenti con il portafoglio sempre meno gonfio? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Dite la vostra e se questo video è stato di vostro interesse potete supportarmi con un like, condividendo i vostri amici e iscrivendovi al canale. Questo è tutto, alla prossima, sempre qui su Addictes2Tech. Ciao ragazzi e buono shopping per quanto possibile. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.